Ciao ragazzi, ecco gli temi nuovi nell'arte ispirata a San Valentino. L'ho realizzata utilizzando smalti e micropittura. Inizio applicando una base su tutte le unghie e lascio asciugare bene. Su anulare e pollice applico anche un cover. Ora abbiamo bisogno di uno smalto rosa perlato. Come vedete il mio è abbastanza scuro, quasi scuro. E' dei glitter che comunque si avvicinino al colore del nostro smalto. O se già ce l'avete potete utilizzare anche uno smalto rosa già glitterato. E faccio un monocolore su mignolo, anulare e indice. Un'unghia per volta così spolvero su qualche glitterino. Su anulare e pollice invece una French, sempre con lo stesso procedimento, spolverando poi i glitter. E lasciamo asciugare. Ad unghie ben asciutte spolveriamo via tutti i glitter in eccesso con lo spolverino di prima. E ora faremo dei decori semplicissimi in micropittura. Prima con del bianco ed un pennellino 00 o 000. Ricordo che la micropittura utilizzata con lo smalto è molto delicata, quindi mantenetevi sempre ad almeno mezzo millimetro del bordo. Stesso decoro lo faccio nel pollice. Ora ci serve un altro po' di micropittura, però stavolta magenta. Con il magenta non faccio altro che ripassare i ghirigori già fatti. Lasciando però intravedere sempre del bianco. Tipo per dare tridimensionalità al colore. Ovviamente magari questo lo fate solamente se avete una mano abbastanza ferma. Se no va benissimo anche il decoro lasciato solo bianco. Ora riprendendo il bianco facciamo dei decori nelle restanti tre unghie. E facciamo dei ghirigori a formare dei cuori. Così anche nelle restanti unghie. L'ultimo decorino che faccio sempre utilizzando il magenta sono dei cuoricini qui. A micropittura asciutta passano uno strato di smalto trasparente e lasciar asciugare bene. E termino tutto con una doppia passata di top coat. Passo la prima, lascio asciugare e passo anche la seconda. Passo la prima, lascio asciuttaassare Grazie a tutti.